buona giornata amici da massimo foghetti oggi è 5 luglio 2022 giornata è quella di martedì siamo ancora all'inizio della settimana e come sempre iniziamo la giornata dando un'occhiata ai giornali il resto è il carlino e il corriere adriatico prima però passiamo per l'almanacco dove troviamo il santo del giorno e oggi andiamo a scoprire sant'antonio maria zaccaria sant'antonio maria zaccaria un santo non molto conosciuto dalle nostre parti ma non meno degno di venerazione nacque a verona nel 1502 studiò all'università di padova filosofia e medicina ma ben presto fu attratto dalla teologia divenne sacerdote e fondò la congregazione dei chierici regolari di san paolo e delle religiose dette angeliche ebbene visse una vita molto molto casta dedita alla preghiera alla povertà alla predicazione dell'evangelo e fu molto stimato in vita anche da tutte le varie fasi dei valistrati della popolazione insomma dai poveri ma anche dai nobili che conobbero la sua bontà d'animo e veniamo anche le previsioni del tempo c'è poco da dire rispetto alle giornate trascorse vediamo che il sole prevalentemente con il caldo ancora governa la nostra regione il nostro territorio sole ancora con un caldo intenso sebbene in parziale attenuazione specie lungo le coste insomma il caldo sembra un pochino attenuarsi grazie ad una brezza isolati temporali in appennino nell'entroterra insomma dove le altezze sono un po più elevate i venti sulle coste ispireranno da una direzione di nord nord ovest mentre nell'entroterra da nord nord est le temperature sono leggermente in calo i mari sono calmi ed ora diamo un'occhiata alle prime pagine dei giornali a partire dal corriere adriatico oggi l'apertura è dedicata alla erosione e la spiaggia non c'è più in titola il giornale bagnini di levante a pesaro e della baia insorgono ripascimenti al risparmio e luglio e siamo già in in emergenza siamo in alta stagione questi ripascimenti avrebbero dovuto farsi in aprile a maggio in previsione dell'alta stagione ma siamo già in alta stagione ebbene la spiaggia manca la spiaggia non c'è più l'erosione si è mangiata file di ombrelloni queste criticità alla fine le paga tutto il turismo dicono appunto i concessionari di spiaggia la fotonotizia è dedicata invece alla siccità vediamo qui una foto del metauro con poca acqua e sappiamo che il metauro dà l'acqua da bere sia a fano che a pesaro e poi è una fonte di irrigazione per quanto riguarda il territorio agricolo di primaria importanza le tre notizie a centro pagina sono dedicate al alla prospettiva di progettazione che c'è nel nostro territorio vediamo sostenibile digitale questi settori a cui si dedicano gli ingegneri del futuro che si laureano appunto a pesaro e poi a urbino il gemellaggio con comiso sugellato dall'arte la città siciliana ha appunto un passato artistico importante che ora si diciamo così si interseca con quello di urbino a pesaro processo carriera i sindacati di polizia difesa degli agenti e si fa un corpo tutt'unico per difendere appunto gli agenti che sarebbero stati un po bistrattati da carriera però insomma tutto è a processo e a fondo pagina vediamo invece la candidatura di maria flora giammarioli che si ripresenta per la terza volta a governare l'ente carnevalesca di fano e poi il giornale il cori adriatico parla dei vaccini agli anziani 9 su 10 senza difese ebbene ancora il vaccino ancora il covid è presente nel nostro territorio con tutte le sue varianti e purtroppo i dati sono ancora molto molto critici e bisogna fare molta attenzione apriamo il giornale sulla pagina di fano e vediamo subito l'articolo che riguarda la candidatura di maria flora giammarioli alla presidenza dell'ente carnevalesca ed è la terza volta che appunto la presidente intende intende proporsi per così organizzare la principale manifestazione non solo di fano ma io direi anche di tutto il territorio marchigiano per quanto riguarda appunto il folclore per quanto riguarda il divertimento e la storia del nostro territorio sarebbe il terzo mandato l'appoggiano tra gli altri due nomi molto noti saul salucci che è il presidente dell'orchestra sinfonica rossini però insomma questa volta l'orchestra non c'è non c'entra niente saul salucci ha fatto una candidatura personale e poi massimiliano barbadoro giornalista è presidente dell'associazione amici senza frontiere ebbene questo collegamento con l'estero è tipico del carnevale di fano che dai tempi antichi chiamiamoli così ha fatto dei riferimenti soprattutto alla germania irlangen rastat ma poi anche in francia santuello mon e poi a tutte le altre città gemellate per esempio in questi giorni intensi si faranno i contatti con gandia in spagna e veniamo alle altre notizie beh si qui c'è anche poi la polemica che è stata intentata sappiamo che ci sono due candidati alla presidenza dell'ente una ora è quella di maria flora giammarioli ma l'altra anche quella di fabio barnesi che con un suo gruppo tenta appunto la scalata al vertice della carnevalesca una alternativa per così sanare alcune alcuni problemi alcune carenze che sarebbero state rilevate nella organizzazione del carnevale prima tra tutte quelle del tesseramento insomma il tesseramento in questo momento può essere fatto soltanto nella sede della carnevalesca in via Rainerio mentre in passato si poteva fare ovunque nei bar nei ristoranti nei banchetti che venivano allestiti durante le manifestazioni e quindi le adesioni aumentavano ora si fanno un po più ristrette perché poi la sede della carnevalesca in centro storico dove non ci sono parcheggi bisogna salire qualche piano di palazzo gabuccini insomma ci sono alcune però alcuni problemi e si parla anche del paglio delle contrade oggi sul corriere adriatico per annunciare la contrada vincitrice appunto del paglio è la contrada del vescovado che ha conteso la vittoria finale alla contrada di san francesco la contrada del vescovado rappresenta i quartieri di bellocchi cucurano chiaruccia falcineto carrara san cesareo rociano forcolo ferreto torno cannelle magliano e monte giove invece la contada la contrada di san francesco la seconda arrivata rappresenta il centro storico il vallato santorso sassonia lido e il quartiere del flaminio è stata una contesa combattuta la contesa del paglio delle contrade è una contesa al tiro alla fune e in piazza 20 settembre si sono alternati i gruppi per il primo secondo posto poi anche per il terzo e e il quarto per il terzo ha vinto ha vinto porta nova che comprende una vasta area nord ovest di fano da centinarola a ronco sambaccio mentre il quarto posto è stato segnato a castel dei mammoli e che ha prevalso che ha prevalso per quanto riguarda qualche manche però ha perso la finale insomma vediamo che è stato un paglio combattuto c'è stato anche un po un colpo di scena un contraddaiolo si è sentito male durante lo sforzo per il tiro alla fune la cara è stata sospesa c'è stato un momento di ansia poi tutto sembra che si sia risolto e vediamo ora le altre notizie daremo luce decoro al sottopasso del vallato parla così l'assessore al decoro barbara brunori e poi il caso delle docente del nolfi che è sotto processo perché accusato di aver assunto metodi educativi metodi didattici insomma un po sopra le righe punitivi nei confronti degli studenti ebbene il docente ora è difeso da 53 colleghi che hanno raccolto le firme per sostenere la sua innocenza davanti al tribunale imputato di maltrattamenti agli allunni le accuse coinvolgono nove ragazzi del Torelli insomma sono nove ragazzi che hanno testimoniato di essere stati tartassati diciamo così puniti suscitando anche un certo problema di carattere psichiatrico psichico perché appunto quando uno poi infierisce ne risente non solo il fisico ma ne risente anche la mente ebbene nel caso comunque è di fronte al giudice dovrà decidere se l'insegnante è innocente come poi sostengono anche i suoi sostenitori oppure deve essere punito per quanto riguarda quello che ha fatto ai ragazzi è un caso ancora da risolvere arretramento le tre ipotesi di ricci attribuite a Fano però non sono note lo dichiara la capogruppo di in comune la lista civica in comune Carla Luzzi per quanto riguarda l'arretramento della ferrovia Carla Luzzi è intervenuta nell'ultima seduta del consiglio comunale evidenziando come il suo partito è contro la galleria sotto Montegiove e insomma tiene molto al rispetto dell'ambiente soprattutto a far sì che le popolazioni non siano non siano ignorate le volontà delle popolazioni interessate da questa linea non vengano ignorate ma vengono contemperate con le esigenze poi della progettazione la consigliera Luzzi chiede chiaramente sulla linea del sindaco e poi abbiamo un caso di stalking ai vicini di casa una coppia di quarantenni perseguitata per quattro anni con insulti e minacce da una vicina di casa una 64enne fanese che non fa altro sembra che così inveire ad alta voce con offese molto molto pesanti nei confronti di questa coppia ebbene i due a questo a un certo punto non gliene ha fatto non gliene ha fatta più sono andati appunto a denunciare questa donna che ora deve rispondere di insulti e minacce davanti al giudice passiamo a Fossombrone a Fossombrone una commissione straordinaria per le richieste sulla sanità sarà oggetto e anzi oggetto di una proposta della maggioranza consigliare appunto nella città metaurense per bocca del sindaco Massimo Berloni è stata la costituzione di una commissione consigliare speciale che segue un po' tutte le problematiche inerenti all'ospedale e anche quelle della sanità territoriale perché la sanità territoriale è molto importante per quanto riguarda i residenti che abitano un pochino lontano dai centri dove ci sono le strutture sanitarie ebbene la possibilità di fare riferimento in tempi brevi e a distanze non molto lunghe a un punto di riferimento di carattere sanitario è importante per la vivibilità delle persone la proposta è stata fatta proprio dai rappresentanti del comitato che ha raccolto 638 firme per chiedere la convocazione urgente su questo tema del consiglio comunale a San Costanzo a San Costanzo ritorno a 50 anni fa con le auto della nostalgia San Costanzo un vintage curiosità per le vetture d'epoca del motor club Lucio Ricci il motor club Lucio Ricci è un motor club fanese che però esercita la sua attività anche a livello territoriale ebbene quando appaiono in mostra queste vecchie signore dei tempi che furano destano sempre curiosità e ammirazione per le loro linee, per le loro cromature, per i loro colori è sempre un bel spettacolo vederle passiamo ora a Senigallia a Senigallia vediamo che le forze dell'ordine hanno usato tolleranza zero sulle regole in spiaggia ebbene ci sono stati brividi sugli scogli e i ragazzini sono stati allontanati la società di salvamento in questo caso intervenuta ha puntato lo sguardo anche sulla sicurezza di chi va in su e sul pedalò c'è una zona interdetta che sarebbe quella delle scogliere dove è vietato sostare perché è pericoloso ebbene un gruppo del servizio di salvamento è intervenuto appunto in questi giorni nelle acque antistante il lungomare Mameli per così invitare coloro che erano appunto in questo luogo proibito, in questo luogo interdetto a raggiungere la spiaggia perché lì non si può andare e poi arrivano problemi, arrivano pericoli si mettono in pericolo anche coloro che devono salvare le persone che sono in queste situazioni Piazza del Duca, Mercatini non stop, giovedì c'è il debutto del Festival 80 a Senigallia fervono dunque i preparativi per la tappa di Radio 105 in programma sabato sulla spiaggia libera della Cesanella e diamo un'occhiata anche allo sport dove vediamo che per la Vis Pesaro Rossoni e 4 Under poi Cesarini e Fedato, Vis ha le idee chiare ha le idee chiare soprattutto su questi nomi 5 acquisti sono soltanto da ufficializzare dalla società ormai sembra che la decisione sia stata presa nel Merino anche un trequartista e un centrocampista di Pesaro insomma la Vis sta facendo degli sforzi considerevoli per rinforzare il proprio organico mentre il Fano mette i primi tasselli il presidente russo, lo abbiamo visto anche ieri sui giornali ora è in città abbiamo chiuso con 8-9 over presto gli annunci, ha dichiarato il presidente in arrivo dal Tolentino, Capezzani e Tortelli sicure anche le conferme di Variali, Olivieri e Zanni questi i nomi che ormai sembrano certi ma c'è anche un'altra notizia che Massimiliano Barbadoro pubblica oggi sul giornale suo impulso del club Forza Alma ma anche con la collaborazione e la coesione dei Panthers e degli Ultrasfano è stata lanciata una raccolta di firme per richiedere all'amministrazione comunale l'intitolazione della curva del Mancini a Bronco questo era il soprannome di Federico Santini scomparso, lo ricordiamo, nel 2010 ricordato nell'appuntamento alla cooperativa Tre Ponti insieme a Rara ed Enzio Celani insomma un personaggio che è rimasto nel cuore di tutti gli sportivi fanesi Bronco, figlio anche di Elmo Santini vediamo ora le notizie di carattere regionale sul Corriere Adriatico Acquaroli, vediamo, qui c'è una classifica per quanto riguarda la simpatia ma più che la simpatia il giudizio che gli elettori evidenziano sul Presidente delle Regioni ebbene Acquaroli perde un po' di punti Fioravanti è il secondo tra i sindaci più amati Acquaroli perde quota nel sondaggio del Sole 24 ore il numero uno di Palazzo Raffaello di Ancona perde quattro punti di gradimento rispetto all'anno scorso e scende al tredicesimo posto c'è anche una classifica per quanto riguarda i sindaci e vediamo che Matteo Ricci a livello nazionale si pone al trentasettesimo posto con un 54% perde il 3,3% sul 2019 si parla soltanto dei sindaci dei capoluoghi di provincia quindi gli altri sindaci pur meritevoli non sono inclusi in questa graduatoria e poi parliamo di sanità i vaccini dimenticati 9 anziani su 10 non sono più protetti solo il 9,1% dei soggetti fragili è over 80 soggetti fragili anche di meno degli 80 anni ma poi tutti quelli che hanno superato gli 80 anni risulta al momento coperto dalla quarta dose solo il 9% molto molto poco e circa 100.000 marchigiani dopo la seconda iniezione sono ancora senza il booster senza ancora la terza vaccinazione ecco perché ancora il covid furoreggia dilaga nel nostro territorio e aumentano i casi aumentano anche i ricoveri ospedalieri e poi tanto per così completare il problema è arrivato anche il vaiolo delle scimmie primo caso accertato nelle Marche si tratta di un uomo della Scolano e in buone condizioni non è ricoverato i sintomi lo ricordiamo sono febbre mal di testa dolori muscolari stanchezza un malessere generale poi appaiono un po' di pustole insomma però insomma chi ha avuto chi ha avuto il vaccino del vaiolo a suo tempo quando era obbligatorio è coperto almeno all'85% vediamo le notizie di Pesaro i bagnini di Levante e Baia l'erosione si è mangiata già a due file di ombrelloni un coro dei bagnini dei concessionari di spiaggia interventi fatti al risparmio ed è solo luglio e siamo già in difficoltà occorrono scagliere occorrono provvedimenti strutturali e poi gli ingegneri del futuro abbiamo visto il richiamo in prima pagina si formeranno a Pesaro due corsi di laurea triennale e magistrale nel segno della sostenibilità e del digitale ebbene la tutela dell'ambiente e il digitale sono un po' i due settori del futuro e gli ingegneri saranno sempre più apprezzati se vengono qualificati in questi due campi e al proposito è stata riconfermata la collaborazione tra l'Università Politecnica e quella di Urbino per il sostegno alle imprese itinerari alla ricerca dei sapori autentici tappe nei luoghi dove il cibo fa storia tour operator conducono turisti molti sono gli stranieri in questo caso sulle tracce dei prodotti tipici e di alta qualità e sempre più l'enogastronomia costituisce una forza d'attrazione per quanto riguarda il turismo qui poi abbiamo l'articolo delle forze di polizia che compatte difendono appunto i colleghi che sono che hanno denunciato carriera per quanto riguarda una ipotetica diffamazione sarà poi il giudice a decidere fatta appunto dal risteratore durante una perquisizione l'estate ritrova brio e gioia l'intrattenimento è per tutti vale foglia presenta il calendario degli eventi tornano anche le grandi feste ed ora diamo un'occhiata al resto del carlino la prima pagina così ho salvato quel bambino parla così il primario neurochirurgo letterio morabito che racconta l'intervento effettuato su un piccolo di dieci anni a cui ha asportato un tumore ebbene guarire una persona è sempre un momento di soddisfazione per qualsiasi medico ma quando guarisce un bambino certo che la soddisfazione è doppia e questa soddisfazione trabocca perché contagia anche tutti coloro che vengono a conoscenza di questa notizia e anche noi esultiamo per quanto ha fatto morabito e poi vediamo la fotonotizia la fatica è un affare ebbene fatica è l'oggetto di un progetto di carattere regionale che consegna ai giovani un bonus da 50 euro vedremo l'articolo nell'interno facciamo un rapido excursus della prima pagina del resto del carlino pizza Rossini bandiera pesarese degustazione a concorso e poi da Barchi una lettera contro il biodigestore un'aggressione dell'entroterra è una lettera indirizzata al sindaco di Fano che appunto sembra orientato per la posizione di questo impianto appunto nel territorio di Barchi Barchi non ne vuole sapere caldo e siccità è l'argomento del giorno numeri veramente da paura ha piovuto alla metà rispetto alla media degli anni scorsi e poi anche il carlino parla dei corsi di ingegneria e uno di questi è in lingua inglese quindi è un corso altamente perfezionato e ancora a fondo pagina viaggio nello stadio Benelli all'ultimo stadio è un degrado che deve essere appunto riparato è oltre un mese sottoterra l'epica lotta dei minatori a Cabernardi accalde questo è un avvenimento che accalde 70 anni fa ebbene la pagina di Pesaro a fare fatica ecco questo è il progetto regionale di cui vi ho parlato poc'anzi i ragazzi a caccia dei buoni così riesco a comprarmi gli iPods ebbene che cos'è questo progetto è un progetto regionale che vede in campo ragazzi e ragazze impegnati in varie attività sono per esempio la polizia delle spiagge dei parchi lavori di decor urbano lavori di pubblica utilità in cambio ricevono 50 euro alla settimana oppure anche dei bonus per fare la spesa alcuni li consegnano alla madre altri li mettono da parte per così comprarsi un oggetto che magari non avrebbero la possibilità di comprarsi ed è un progetto che ha ricevuto molte molte adesioni e intanto la città ne guadagna perché con poca spesa riesce a essere più bella più attrattiva anche a Urbino dentro la fornace chi può approfitta dei grottini chi è quel locale che ha delle grotte sotto il piano in cui esercita la sua attività le città antiche ne hanno tanti perché una volta erano le dispense dei palazzi nobiliari ma anche dei palazzi dei commercianti di bere proprie dispense frigorifere perché poi la temperatura lì era più stabile ebbene chi ha questi grottini può ospitare tanti clienti che si rifugiano dal caldo e gli altri invece devono stare un po' o all'aria condizionata oppure all'aperto ma sotto la canicola gli operai nella canicola duro lavorare così e il Carlino fa un giro in città per capire come la gente si difende dall'AFA il barista ormai il piazzale Lazzarini vive solo al mattino e presto e poi alla sera vediamo la pagina di Fano l'apertura è dedicata alla carnevalesca Gian Marioli ci ripensa io presidente con un listone unico la leader uscente si ricandida e corteggia gli sfidanti ha cercato di comporre la lista alternativa in un'unica in un'unica così proposta agli elettori ai soci della carnevalesca ma sembra insomma che non ci sia possibilità di trovare un accordo e quindi di questo poi abbiamo già parlato le sentinelle mandano a processo i disturbatori cinque accusati per aver esposto un cartello a favore del DDL ZAN durante la manifestazione organizzata a Sassonia dal gruppo contrario avevano esposto un cartello in difesa appunto di questo decreto durante una manifestazione contro il disegno di legge dell'omotransfobia organizzata dalla sentinelle in piedi sul lungomare di Fano ebbene quel cartello ora fa sì che loro debbano rispondere di fronte al giudice un'ultima notizia ve la segnalo prima di chiudere anche dalle brecce si invoca la strada delle barche sarà una opportunità per qualificare quella zona che ora versa nel dimenticatoio e nel degrado ebbene era l'ultima notizia Massimo Foghetti vi saluta vi dà appuntamento alle 7 di domani e per le notizie del giorno alle 20.30 di questa sera su Occhio alla Notizia di Fano TV grazie bell'ascolto a risentirci a rispettare a rispettare